buongiorno bentrovati per le prime pagine dei giornali per oggi la rassegna stampa di tg plus del 25 maggio partiamo da padova bollette un'estate calda rincari fino a 100 euro studio dell'associazione adico per elettricità e gas primi aumenti nel periodo luglio settembre per i padovani sarà una mazzata lo spi cgl gli anziani sono in difficoltà ebbene lo sappiamo anche noi nella fotonotizia non si può non parlare di calcio padova questa notizia che troveremo anche su altri giornali calcio peghina il nuovo presidente del padova amo questi colori e sarà una sfida per la città peghina per capirci è lo sfidante di giordani alle ultime elezioni per il sindaco poi giordani vinse però peghina che rappresentava una certa fetta dell'elettorato altre notizie c'è un'inchiesta per il calcinaccio della piani caduto sull'auto si va avanti anche con questa faccenda schianto in a 13 era ubriaco chi ha travolto ucciso un uomo movida niente fonometri e i residenti protestano perché ci sono dei dei rumori altra notizia che è una piccola fotonotizia gli alberi ammalati di san gregorio 13 già tagliati però non verranno ripiantumati comunque è già stata detta questa cosa anche in passato sulla prima pagina invece del gazzettino zaia e brugnaro possibile proroga altri sei mesi i pareri del viminale aprono la strada al rinvio del voto a primavera 2006 e il pnrr ultimatum dell'europa sapete che il gazzettino fa le notizie anche di carattere nazionale questa è una e l'altra notizia del giorno che troviamo su più giornali il giro il padovano batte milan oggi è l'arrivo in val di zoldo caorle volata mozzafiato vince dainese andiamo anche sul corriere del veneto limiti anti smog no della regione l'europa vuole inasprire i vincoli ciambetti a bruxelles irrazionali per la pianura padana nella fotonotizia va avanti anche la faccenda dello sciopero della fame dell'ex sindaco in cella e vedete che calcio padova anche qui torna peghino sfidante di giornali nuovo presidente del padova e il giro d'italia ancora altra notizia che troveremo un po dappertutto è questa del kayak che si ribalta il campione muore in un torrente e anica la ragazza che è stata trovata morta sul piave l'autopsia cambia tutto è stata uccisa per andare a vedere anche che cosa dice la prima pagina del di notizie plus la nostra da bonoterme i carabinieri hanno incontrato i ragazzi bellissimo questo questo incontro c'è stato anche un cane della unità cinofila che ha conosciuto i ragazzi sapete che i ragazzi e i cani hanno sempre questa affinità molto particolare tante altre notizie che trovate comunque all'interno della nostra pagina è tutto per oggi poi vedremo le altre province